Ecco piazzola a San Vito, disponibilità all'ascolto e al dialogo. Inizia così un post su Facebook della sindaca Elena Pavan, che apre al dialogo con i residenti di San Vito inviperiti per la decisione dell'amministrazione di costruire una piazzola di raccolta rifiuti nell'area di sgammamento cani del popoloso quartiere. Comprendiamo i dubbi dei cittadini, conferma la sindaca, che spiega sui social di essersi attivata con Etra per trovare una soluzione alternativa, soluzione che sarebbe già arrivata con la proposta di trasferire il progetto nell'ex caserma fincato. La priorità è ascoltare i cittadini, conclude la Pavan, che invita i residenti a farsi portavoce delle esigenze della città e dice sono qui per ascoltarvi e recepire i suggerimenti. Saranno lieti di saperlo i residenti di San Lazzaro, ad esempio, che hanno dovuto salire sulle barricate per combattere il progetto che avrebbe dovuto portare capannoni, asfalto cemento, nell'ultimo lembo di campagna bassanese. Fino all'ultimo minuto del consiglio comunale fatidico del luglio scorso, che ha sancito la bocciatura del piano portato avanti proprio dall'amministrazione Pavan. Cittadini e residenti si erano lamentati del muro che si sono trovati davanti e del mancato ascolto da parte della Giunta, creando una situazione che ha portato addirittura alle dimissioni del consiglio di quartiere. Saranno lieti di sapere che la priorità è ascoltare i cittadini, anche i residenti di Via Vial, che vorrebbero salvare i loro amati alberi dall'arrivo di una piastra per sport all'aperto. Chi si è esposto per fermare il progetto è stato accusato di voler strumentalizzare un percorso che è molto simile a quello della Copiazzola di San Vito. Insomma, bene hanno fatto i residenti di San Vito a consegnare il municipio le firme contro l'Eco Piazzola, facendo sentire la propria voce. Ma qualcuno potrebbe anche dire che a Bassano non tutte le voci vengono ascoltate nello stesso modo e quel che oggi è ascolto qualche mese fa era una porta chiusa o peggio ancora un'accusa di strumentalizzazione politica. Ma il suono, le voci, gli ecchi della città si sa vivono di vita propria, a seconda della geografia e del momento possono rimbalzare in alto o cadere giù in fondo alla Brenta, che li porterà lontano dalla città verso il mare dell'oblio e del silenzio.